Il presidente Mattarella ha ragione, il virus della Shoah è ancora in circolazione. È l'allarme lanciato da Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz durante un incontro con alcuni studenti delle scuole romane al Maxi di Roma. Ci sono manifestazioni che non mi fanno piacere, ha aggiunto Modiano, ma io continuerò a lottare. Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato stamani al Palazzo delle Esposizioni Testimoni dei Testimoni, la prima mostra ideata da un gruppo di ragazzi che ha partecipato ai viaggi della memoria. Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano l'esperienza del campo di concentramento, ha detto Raggi, affinché la memoria generi un futuro consapevole. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha riconsegnato questa mattina in via Vernio, a Fidene, un villino confiscato ad un malavitoso. Mi auguro che questo bene nei prossimi mesi, grazie alla collaborazione tra Ministero, Comune e Municipio Terzo, possa essere assegnato a una cooperativa per il progetto Dopo di Noi, ha detto Salvini. Al posto di un delinquente arriveranno cinque ragazzi disabili, che potranno così vivere una vita tranquilla e normale, con spazi aperti anche ai giovani del quartiere. I carabinieri di Viterbo hanno arrestato oggi 13 persone, accusate di far parte di un'organizzazione criminale dai connotati mafiosi. Il gruppo, che imponeva il controllo su negozi, locali notturni, ditte di trasloco e altre attività, non esitava a compiere intimidazioni nei confronti delle vittime e di chi indagava su di loro. Decine gli episodi di auto incendiate, comprese macchine dei carabinieri. È la prima volta che viene contestato il 416 bis per un sodalizio nel Viterbese, ha detto il procuratore aggiunto della DDA di Roma, Michele Prestipino. Maxi sequestro della Guardia di Finanza al clan Casa Monica Guglielmi. Le Fiamme Gialle hanno confiscato beni per un valore di 2,4 milioni di euro, tra questi una lussuosa villa in stile Liberty sulla Nagnina, abitazioni, terreni e conti in banca. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina, sono state focalizzate sulla ricostruzione della carriera criminale dei componenti del nucleo familiare e hanno fatto emergere come, a fronte di un ingente patrimonio, alcuni di loro non avessero percepito proventi leciti tali da giustificarne il possesso.